Se si desidera assegnare le aziende a porte specifiche in ePassan Manager, si inizia facendo clic sul pulsante Attrezzature e impostazioni. Cliccate quindi su Porte e selezionate un gruppo di porte dal menu a tendina. Ora fate clic su Aziende per visualizzare un elenco di aziende e selezionate l'azienda che volete assegnare a quella porta. Infine fare clic su Salva. Ora è sufficiente ripetere la procedura per tutte le altre porte. Grazie a tutti.